Siamo oltre 70 operatori che parteciperanno domenica sul pubblico passeggio raggruppando tre consorzi storici che stanno lavorando su territori, su vari territori già da parecchi anni. Consorzio Mercante di Qualità di Piacenza, Consorzio Mercante di Qualità di Parma, Consorzio di Qualità denominato anche Terra di Gonzaga di Reggio Emilia. Per la prima volta siamo riusciti a riunire i tre consorzi assieme, non è mai stata fatta questa cosa né qui né da nessun'altra parte, grazie ai nostri buoni rapporti anche di lavoro e vediamo di portare un po' l'eccellenza dei vari territori sul territorio piacentino, cosa che noi sicuramente conteremo di ripetere anche sul territorio di Parma e sul territorio di Reggio nel corso del 2018. Avremo prodotti di ogni genere, a partire dal solito comunque in ogni caso abbigliamento, scarpe, borse, fiori, intimo, poi avremo comunque prodotti enogastronomici dei nostri territori e anche dei territori italiani, non direttamente dei territori in oggetto. Porteremo operatori validi, mercanzie valide, tutti gli operatori di alto livello e vedremo di soddisfare la clientela, l'esigenza di clientela piacentina. Grazie. 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 Grazie.